Buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo Toglio, sono Sales Manager Italia di Polartec. Oggi vi presento Elevation Polartec Alpha Jacket, una delle ultime novità Dynafit per Spring Summer 18. È un capo molto versatile, utilizzato soprattutto per attività di speed mountaineering, dove Dynafit ha utilizzato una delle nostre ultime tecnologie, Polartec Alpha, che consente di realizzare dei capi con un buon grado di termicità e un'elevata traspirabilità e termoregolazione durante tutte le attività dinamiche, per cui dove è richiesta un'alta performance dell'atleta, evitando che ci sia un surriscallamento all'interno del capo e consentendo quindi all'utilizzatore di concentrarsi al 100% durante la sua attività fisica e durante tutta la fase della performance. Un'altra delle caratteristiche di Polartec Alpha è quella di consentire di realizzare dei capi molto leggeri che quindi possono essere trasportati all'interno dello zaino con molta facilità. Polartec Alpha è la nostra active insulation che consente di realizzare dei capi che funzionano durante le attività dinamiche.